A poco più di un chilometro dalla conclusione, trova il momento, il colpo di pedale giusto, Andrea Canovi, il corridore veronese di Isola della Scala, in forza la Contri, Autozai, lo vedete in casacca nera in prima posizione, è scattato in contropiede, ha anticipato i velocisti puri, ha cercato la soluzione di forza, giocando d'anticipo, ed infatti eccolo, Andrea Canovi alle spalle, alla sua ruota c'è Mirko Gozio, poco più staccato in casacca, iperfinish c'è Nibali, è lanciato lo sprint a centro strada intanto, è lanciato lo sprint con La volata tra Gozio e Canovi che dà la vittoria a Canovi su Gozio, in terza posizione a pochissimi secondi arriva Nibali e poi il russo Akma Metiev, poi Favero, il campione d'Italia Andrea Zordan in sesta posizione, il campione d'Europa vincitore uscente Luca Wackerman in settima, l'altro russo Nicolai Cournov in ottava, Silvio Giorni nono e Kevin Lissandroni, il veneto della Work Service Brenta in decima posizione Rivediamo lo sprint con la volata 2 fra Canovi e Gozio, il veronese ha la meglio e vince il sesto gran premio, vini dell'eroero a Canale Andrea Canovi hai scelto il tempo non giusto, giustissimo, tutti aspettavano lo sprint ma non avevano fatto i conti con te Eh, l'ultimi due chilometri ero ruota di campione europeo, pensavo di fare la volata per il piazzamento, dopo visto che c'è stato un rallentamento ne ho approfittato perché in volata non sono velocissimo Tanto dimostrato di essere un finisher davvero d'eccezione e una dedica per questa bella vittoria di prestigio a Canale oggi La dedico a tutta la mia squadra che ha lavorato tantissimo per questa gara e alla mamma e al papà dei nostri due dirigenti che sono morti in queste settimane Ora bisogna proseguire così? Eh, speriamo, questo è un punto d'inizio, speriamo una buona stagione Gozio, niente da fare, ha intuito il momento giusto come Canovi ma lui è stato più lesto, più veloce No, è stato lui il più forte, io ho cercato di, l'ho rimontato qua ai 200 metri, ho aspettato per partire a fare la volata ma non c'è stato niente da fare Ho faticato all'inizio, i più forti della mia squadra erano Tonelli e Marcassoli, sono stati loro a fare battaglia sulle salite Ho tenuto duro e mi hanno dato l'opportunità, mi hanno tenuto chiuso dietro, cercando di farmi fare un bel risultato e sono contento Nibali oggi terzo sul podio, anche tu hai intuito lo scatto decisivo di Canovi e lui è stato decisamente più lesto, più veloce Sì, è stato più veloce ma ha perso quei 50 metri, non sono più riuscito a recuperarli e andato da lì siamo arrivati tutti insieme, uno staccato dall'altro, via Tanto hai dimostrato comunque di saperci fare molto bene con questa categoria, di saper correre davanti Sì, ho cercato sempre di correre davanti, nelle prime posizioni, nelle salite ho fatto tranquille e poi all'ultimo non essendo tanto veloce ho aspettato gli ultimi due chilometri per partire Intanto abbiamo un compagno dietro veloce, gli ho detto stai sulle ruote più veloci o prova a fare un finisher Piero Sacchetto, un successo praticamente su tutte le latitudini perché oltre ad aver avuto una partecipazione eccezionale sul piano quantitativo e qualitativo Un finale di corsa di grande spettacolo, una corsa imprevedibile fino agli ultimi chilometri e poi lo scatto di questo Canovi che ha praticamente anticipato tutti i migliori velocisti Davvero una corsa vissuta dal primo all'ultimo chilometro con grande stile e grande sportività Sicuramente, è stata una gran bella corsa, un percorso che si presta a ogni tipo di soluzione Pensavamo che lo strappo che abbiamo messo a 6 chilometri dall'arrivo pur essendo con una punta del 20% Nonostante questo erano talmente bravi chi era davanti che sono riusciti ad arrivare una ventina Comunque c'è stata una volata tutta sfilacciata e penso che oggi abbia vinto il più forte perché è stato asselto il momento giusto ed è stato forte Intanto con la comunità di Canale che si stringe davvero tutto attorno a voi per un evento sportivo di primissimo piano Andate a mettere agli annali e agli archivi un'altra bella edizione di questa corsa Questa è un'edizione veramente bella, diciamo che quella più bella è sempre l'ultima Però credo che per il Roero sia la più grande manifestazione sportiva della stagione Abbiamo portato tante squadre, tanti bei nomi a Canale Che sicuramente questi ragazzi che si sono oggi dati battaglia Sicuramente vedremo qualcuno di loro, sicuramente in futuro avrà dei traguardi molto belli Pensiero anche a voi allora per il vostro futuro per riconfermarvi ancora al vertice sul piano organizzativo Questo è quello che vogliamo e quello che puntiamo Certamente vogliamo stare ad alto livello e quindi partiremo già nei prossimi giorni Per pensare alla prossima stagione per vedere ancora tanti bei corridori qui nel Roero E speriamo di poter continuare ai massimi livelli E speriamo di poter continuare ai massimi livelli E speriamo di poter continuare ai massimi livelli E speriamo di poter continuare ai massimi livelli